Benvenuti su ClaudioMasci.com Ormai è già da diversi giorni che si è diffusa la notizia che Fortnite è stato eliminato dagli store prima da Android quindi da Google e dal Play Store e subito dopo anche da Apple, dall'Apple Store Per Android si è subito trovata una soluzione Infatti gli utenti Android possono rimediare al blocco di Fortnite dallo store scaricandolo direttamente dal sito di Epic Games Infatti collegandosi al sito di Epic Games alla pagina di Fortnite da un dispositivo Android avremo il tasto che ci dice scarica e inizia a giocare Toccando infatti la voce Android si andrà su una pagina che ci permetterà di scaricare Fortnite Abbiamo la possibilità di scaricarlo in due modi Gli utenti che hanno un Samsung Galaxy possono scaricarlo dallo store Samsung Infatti Fortnite è stato bloccato da Google ma non da Samsung Chi ha i Samsung dal Galaxy Store può scaricare tranquillamente Fortnite In alternativa si può scaricare l'app Epic Games App che andrà poi a scaricare Fortnite Quindi chi non ha un Samsung può toccare la voce ottieni dall'Epic Games App Che aprirà una nuova pagina con un messaggio che ci dice se vogliamo consentire l'installazione dell'app Epic Games App Cliccando su ok ci permetterà di scaricare quest'app al momento annullo per farvi vedere gli altri passaggi Quindi abbiamo il primo passaggio che ci dirà di scaricare l'app Al termine troveremo l'app installata sul dispositivo Andremo a permetterla Aggiorniamo le impostazioni del browser per permettere l'installazione da questa fonte Nel caso in cui non fosse possibile installarla Confermiamo l'installazione andato oltre Confermiamo l'installazione cliccando sul pulsante installa A questo punto verrà installata l'Epic Games App Che una volta avviata e effettuato l'accesso all'account di Epic Games o l'account di Fortnite Ci permetterà di scaricare ed installare Fortnite sul dispositivo Android In questo modo da adesso in poi potremmo tranquillamente giocare a Fortnite E aggiornarlo, tenerlo sempre aggiornato direttamente dall'app Quindi anche se Google non dovesse decidere di sbloccare Fortnite sul suo store Sarà comunque possibile installarlo ed utilizzarlo sui dispositivi Android Invece per quanto riguarda Apple la situazione è leggermente diversa Infatti Apple non permette in nessun modo installazioni di app o di giochi da diverse fonti Quindi sugli iPhone, sugli iPad non è possibile installare legalmente giochi da altre fonti Ovviamente è possibile farlo illegalmente ma questo è un altro discorso E soprattutto non conviene farlo per il motivo che ora vi dirò Infatti c'è una notizia che sta girando negli ultimi giorni Che ci sono tantissimi iPhone in vendita su eBay ad esempio usati Con Fortnite installato Vi consiglio di non cascare in queste truffe perché è vero che magari avrete Fortnite per qualche giorno Ma Epic Games sta per aggiornare Fortnite Quindi nella prossima patch tutti i dispositivi Apple non saranno più supportati Saranno bloccati Quindi non sarà più possibile giocare a Fortnite da un dispositivo Apple Questo penso che sarà valido fino a quando non si risolverà la diatriba con Apple Che seppur partita dopo rispetto a quella con Google Perché effettivamente Google è stata la prima a bloccare Fortnite Ma Epic Games non l'ha presa così male come con Apple Perché probabilmente hanno la possibilità di installare tranquillamente Fortnite sui dispositivi Android Quindi il fatto che non sia sugli store si li penalizza ma relativamente Mentre il danno sui dispositivi Apple è maggiore perché non c'è nessun modo Per permettere agli utenti di installare Fortnite su quei dispositivi E quindi finché non si risolverà la diatriba Quindi finché Epic Games non accetterà di far passare tutti i pagamenti di Fortnite Tramite i pagamenti di Apple Difficilmente credo che sia possibile rivedere Fortnite sui dispositivi Apple Quindi chi ce l'ha installato può giocarci ancora tranquillamente fino al prossimo aggiornamento Chi lo ha scaricato in passato e disinstallato lo può andare a riscaricare dagli aggiornamenti Andando a cercare le app scaricate dallo store Apple Chi non lo ha mai scaricato non potrà al momento installarlo sul suo dispositivo Apple Questo è tutto Fatemi sapere nei commenti se avete dubbi, domande o consigli Per quanto riguarda invece il link per andare al sito di Epic Games Se state guardando questo video da YouTube Andate in descrizione e troverete il link al mio articolo E nell'articolo troverete il link diretto alla pagina di Epic Games Così non dovrete andarvela a cercare su Google Quindi la troverete tranquillamente sul mio articolo Vi ringrazio per aver seguito questo video Ci vediamo al prossimo Ciao Ciao Grazie a tutti.